Ok, salve, buonasera a tutti e benvenuti al terzo appuntamento serale dell'ultima ottava del mese di marzo. Oggi per quanto riguarda gli istini europei c'è stata una chiusura di seduta in ordine sparso, il DAX chiude a più 0,42%, l'Ibex a meno 0,31%, i CAC di Parigi a più 0,35% il FTSE Londra a più 0,33% e chiude il FTSE MIB a meno 0,26%. Oggi praticamente la Brexit è ufficialmente partita, oggi è stata consegnata al Presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, la lettera firmata dal Premier Theresa May per la notifica dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona che segna appunto l'avvio ufficiale del leader di uscire del Regno Unito dall'Unione Europea. Non c'è nessun motivo per fingere che sia un giorno felice né a Bruxelles né a Londra, ma paradossalmente c'è anche qualcosa di positivo nella Brexit, ci è reso una comunità a 26... No, non voglio dire noi, tu no, zotto va già a Ciro, chissà. E sto parlando di entrambe le parti, ha proseguito Tusk, ricordando che l'obiettivo è chiaro, ridurre al minimo i costi per i cittadini dell'Unione Europea, le imprese e gli Stati membri. Abbiamo tutti gli strumenti per che questo avvenga, Tusk ha rinoltre ribadito i prossimi passaggi, venerdì condividerò con gli Stati membri la proposta per le linee guida negoziali di ottenere nel Consiglio Europeo del 29 aprile. Bene, invece vediamo domani che succede, giovedì 30 marzo, quindi abbiamo un'unica indicazione da parte durante la sessione europea con l'indice di prezzo al consumo della Germania alle ore 13 riferita al mese di marzo, mentre alle ore 13 e 30 abbiamo un doppio appuntamento dagli Stati Uniti. Abbiamo il prodotto interno lordo e la richiesta dei sussidi di soccupazione relativi al 25 marzo. Bene, adesso andiamo a vedere invece quello che è successo per quanto riguarda le principali coppie del mercato Forex, in particolare per l'euro dollaro, l'euro dollaro dove stamattina ho dato un'indicazione di vendita, sono entrato a mercato, quindi sulla rottura della trendline di questo canale, più che altro di questo canale rialzista. Ciò a darmi manforte di queste operazioni di vendita è stata in particolare la forza del dollaro americano che praticamente si vede soprattutto sul future del dollar index, eccolo qua, vedete come sta spingendo, come è arrivato quasi in area 100, ritorno un'altra volta ad un numero a 100, quindi siamo precisamente a 99,94, quindi questo è un movimento rialzista che praticamente va ad implementarsi insieme al movimento rialzista che già c'è stato nella seduta di ieri. Bene, quindi ritorniamo di nuovo all'euro dollaro, quindi ecco che la forza appunto del dollaro americano in questo momento ha fatto triggerare in mio ordine pendente ed in questo momento praticamente mi trovo ad 30 punti. ho fissato due target, il primo target a 124 punti, mentre il secondo target a 238 punti. Mentre invece andiamo a vedere il dollaro yen, per quanto riguarda invece il dollaro yen la situazione resta, passo prima sul giornaliero, vedete praticamente siamo rimasti al di sopra 110,34, quindi non c'è stata la rottura di 110,34 dopo che le sedute di ieri e dell'altro ieri sono state caratterizzate da due rimbalzi, vedete questi sono due rimbalzi, sono 110,34 quindi il prezzo è risentito di questo livello, di questo supporto statico. Al momento sto fuori dai giochi e attendo altre indicazioni, mentre invece per quanto riguarda la stellina dollaro che dove la stellina bisogna tenere sotto stretta osservazione, soprattutto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, vedete praticamente siamo rientrati all'interno della neckline del test spalla rovesciato in ambito settimanale. Sul giornaliero a momento siamo tra 1,24 e 20, cioè il prezzo è al di sotto, questo supporto 1,24 e 20 è già attestato la media mobile a 21 periodi, quindi nel caso di una chiusura stasera sotto la media mobile, quindi praticamente domani ci potrebbe essere un'eventuale operazione, quindi la possibilità di poter inserire una pendente sell a mercato con un target a 1,20 e 32. Andiamo a vedere la situazione su H4, bene, su H4 siamo in un'area proprio a 1,24 e 20, cioè un livello, questo livello che è stato toccato diverse volte. Siamo fuori da questo canale rialzista, vedete c'è stata questa rottura, purtroppo non sono riuscito ad entrare a mercato sell, anche se avevo individuato una possibilità di un ingresso a mercato su questa zona, esattamente verso 1,25 e 50, in questo momento vedete siamo sotto 1,24 e 20. Bene, vediamo che cosa succede, come chiude stasera e poi per poter poi dopo operare a mercato. Invece abbiamo l'altra operazione, esattamente la 59esima operazione del mese di marzo, sempre una Euro Yen, in questo caso un sell stop che è stato triggerato su Euro Yen e in buon profitto. Allora, l'operazione è subito entrata a mercato, quindi subito entrata in profitto e ho sistemato questa operazione appunto a rottura di questa trend line, questo canale che è in direzione opposta al trend principale, quindi qua è in operazione su H4 ed in questo momento vado un attimo anche a vedere l'altro monitor. Allora, siamo esattamente per quanto riguarda Euro Yen, vado a vedere un attimo cosa sta succedendo. Bene, su Euro Yen la situazione resta, al momento resta sempre short, anche se vedete c'è una correzione da parte dei compratori. Bene, vediamo un attimo stasera che cosa succede, in questo momento siamo arrivati in giornata, siamo arrivati a un profitto massimo di circa quasi oltre i 90 punti, adesso praticamente ne siamo sui 50 punti. Bene, mentre invece abbiamo anche New Zealand Dollars, l'altra operazione che già è aperta diciamo abbastanza diversa dalla dalla scorsa settimana, l'operazione qua stamattina praticamente vedete siamo sempre al di sotto del prezzo di ingresso al mercato in vendita, il prezzo vedete si è fermato dall'area 50, 61,8, calcolato dall'ultima correzione ribassista e in questo momento siamo sui 10-12 punti di gain momentaneo. Mentre invece per quanto riguarda una delle due operazioni AUDN, andiamo a vedere come sta andando, cioè una delle due operazioni di lungo termine AUDN, quindi mi sposto sul settimanale, vedete, cioè siamo praticamente siamo al ridosso del punto di ingresso al mercato, quindi lasciamo muovere, lasciamo movimentare l'operazione per poi decidere sul da farsi nel corso delle prossime sedute. Mentre invece andiamo a vedere anche USDCAD, USDCAD, bene per quanto riguarda USDCAD sono BUY a mercato, stiamo al di sopra la media 21 quindi andiamo a vedere sul giornalino che cosa sta succedendo, ci stiamo avvicinando piano piano appunto al prezzo di ingresso al mercato, vediamo un attimo cosa succede nel corso della serata. Una, una, sto seguendo con maggiore attenzione i gold, ho dato già indicazioni all'interno della chat telegrama dove praticamente sto aspettando maggiori indicazioni da parte della lettura delle candele, dove praticamente potrebbe partire, mettiamo il giornalino qui, il dedo, dove potrebbe partire, vedete, praticamente il prezzo si è fermato a 1255,18, cioè abbiamo un doppio massimo proprio su questo livello e quindi da questa zona potrebbe partire una movimentazione short. Sto aspettando indicazioni, vedete praticamente al momento la media 21 si è appiattita, dopo che c'è stato questo forte spinta rialzista, al momento si è appiattita, sto aspettando appunto che la media 21 inizia a girare con le chiusure, con i prezzi, eventualmente con le candele H4 che iniziano diciamo ad avere le chiusure al di sotto la media 21. Possibilmente quindi il punto preciso al momento non l'ho individuato, però praticamente potrei ipotizzare per un ingresso al mercato sotto gli ultimi minimi relativi e precisamente a 1246,80. Bene, per stasera è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e ci aggiorniamo direttamente all'analisi, alla diretta live di domani mattina.